la mamma albicocca come sempre controlla sua figlia ci gioca fa hanno un rapporto fantastico albicocca e a mamelis e la mia melli giocano fanno gli da un po di educazione perché secondo lei melli è un po vizzetelle guardate con che delicatezza giocano e di là c'è la nonna che sta a guardare come per di qua se queste mi devono proprio giocare qui e disturbare a me che voglio la tranquillità si è messa lì logicamente perché c'è la finestra che dà sul mare e c'è un bel venticello che non c'è nemmeno bisogno del ventilatore la melli è proprio una sconsiderata simpaticissima giustamente gioca sul tappetino morbido perché dovesse o sporcarsi o farsi o stare sul duro e farsi male magari alla schiena allora noi vi salutiamo troppo simpatica veramente è stata felicissima albicocca di avere la sua figliotta e penso che anche me li sia molto contenta da avere la mamma e non sempre perché sono un po rompina c'è ragione ramelli che la scrivono ogni tanto però guardate che bellezza va bene buona giornata buon mercoledì siamo a metà coraggio apprezzate